Ristrutturato l'ex padiglione conosciuto come Forlanini per il potenziamento dei servizi sanitari in Val d'Arno. È stato infatti acquistato dalla clinica Reabilitazione Toscana dal comune di Terra Nuova Bracciolini e dopo sei mesi di lavori, oggi il taglio del nastro. CRT è una sperimentazione gestionale importante che ha dato degli importanti risultati, una partnership pubblico-privata, ovviamente sotto il controllo pubblico, che ha dato dei risultati importanti. È un esempio di come si deve guardare a nuovi modelli. La struttura è stata ampliata a 270 metri quadrati e sarà destinata a vari servizi sanitari, dalla neuro-riabilitazione alla riabilitazione post-operatoria e alla traumatologia minore. Qui saranno concentrate tutte le attività rivolte esclusivamente ai residenti del Val d'Arno, quelle ovviamente riabilitative, anche quelle che oggi vengono svolte dentro l'ospedale. Questo serve a fare due cose, a ottimizzare meglio i percorsi e nello stesso tempo a migliorare gli spazi e l'utilizzo degli spazi all'interno dell'ospedale. Questo apre la strada a un progetto complessivo di riordino dell'offerta riabilitativa fortemente voluta dalla direzione del CRT che trova l'azienda Toscana Sud-Est non solo all'interno della società ma anche principale sponsor di questa attività. Si tratta di un primo passo di un percorso ben più ampio. La clinica ha infatti acquisito un nuovo padiglione nelle vicinanze con dimensioni analoghe che entrerà in funzione a luglio. Un altro passo avanti in una riqualificazione di questa intera area dove già insistono servizi importanti e dove sappiamo grazie al finanziamento intercettato dal PNRR nascerà anche la futura casa della comunità hub.